. Tu si cuevales, paura per Maria De Filippi e Rudy Zerbi. . Rudy Zerbi e Maria De Filippi, lo scherzo sciocca a Tu si cuevales. Questa sera va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tu si cuevales con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. . La puntata inizia in maniera nuova e originale con i due uomini che, seguendo il consiglio della Queen Mary suggerito all'orecchio per non farsi sentire alla vittima designata, hanno preso in braccio Rudy Zerbi e l'hanno portato in cima alle scale dicendogli di rimanere lì per tutta la puntata. . Insomma, il professore di Amici di Maria De Filippi è stato cacciato dalla giuria di Tu si cuevales. . Ma la puntata verrà ricordata non tanto per questo simpatico scherzo fatto al cattivo, si fa per dire, Rudy Zerbi, come l'ha rinominato Jerry Scotti, bensì per l'esibizione venuta subito dopo. . Un uomo ha dato un pacco regalo a Maria dicendole di tenerlo al sicuro. Nel mentre ha svelato il contenuto di due teche poste di fronte a lui, la prima conteneva degli scorpioni, la seconda delle tarantole. . Proprio durante lo svelamento di quest'ultima teca, con tanto di presa delle tarantole al fine di mostrarle al pubblico, ha comunicato che una quarta tarantola non era all'interno della teca. . Dov'era? Subito la giuria è rimasta di sasso e Maria De Filippi ha chiesto se per caso non si trovasse all'interno del pacco da tole all'inizio dell'esibizione. Proprio qui è avvenuto lo scherzo che ha terrorizzato tutti quanti. Maria De Filippi e Rudy Zerbi terrorizzati a tu si cuevales. . Un uomo ha portato a tu si cuevales scorpioni e tarantole. Tutto anormale se non fosse che la quarta tarantola non era nella teca dentro cui era stata messa dal padrone. . I giudici di tu si cuevales si sono subito impauriti soprattutto Maria De Filippi, la quale ha avuto poggiato sulle gambe per tutta la durata dell'esibizione una scatola ben chiusa, e Rudy Zerbi che ha paura di ragni e simili. . Proprio nel momento di maggior tensione è piombato dal soffitto un ragno, finto, proprio sulla testa di Rudy Zerbi. . 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